Da qualche tempo si rincorrevano voci di una loro presunta crisi anche alla luce di tweet piuttosto equivoci della produttrice televisiva Sonia Bruganelli, la quale aveva scatenato i giornali di gossip con questa affermazione. Gli amori finiscono, le persone che si sono amate non finiscono mai. Sono stati molti a trarre spunto da queste parole molto generiche per malignare e presumere che l'ex GFina facesse riferimento al rapporto con il marito. Di recente la coppia ha pubblicato degli scatti con i quali molto probabilmente hanno smitto qualsiasi altra voce. Nuovo ha pubblicato degli scatti che li ritraggono insieme in vacanza, insomma si può mettere finalmente la parola fine a questa presunta cherella amorosa, in realtà totalmente smentita dei diretti interessati. A settembre riprenderanno entrambi la loro attività lavorativa e se Bonolis siamo abituati a vederlo in tv ormai da decenni, negli ultimi tempi anche la Bruganelli che solitamente ha sempre lavorato dietro le quinte si è ritagliato un ruolo di protagonista nel piccolo schermo. Ed è stata infatti riconfermata nelle vesti di opinionista al GFVIP. Grazie. 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 Grazie.